Buonasera a tutti, questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Alfredo Bonopane che è un ottimo e rinomato studioso di epigrafia ed è anche un collaboratore della società perché da anni, insieme con altri della sua università, partecipa all'organizzazione di Saxa Locuntur e anche quest'anno speriamo di poterlo avere in agosto quando faremo il nuovo corso. Si è occupato moltissimo di Aquileia e del Friuli e quindi sarà molto interessante quello che ci dirà questa sera. Grazie professore, a te la parola. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono contento di partecipare a questo incontro. Come ha detto giustamente l'amico Maurizio, Aquileia è dai tempi ormai lontani dei miei studi universitari uno dei miei punti focali di ricerca, così come da qualche tempo anche il Friuli più in generale. Il tema che ho scelto per questa nostra conversazione è stato suggerito dal fatto che una sezione, una parte della società friulana di archeologia si occupa anche di miliari e quello che vedremo oggi ha in parte a che fare con i miliari. Noi partiamo subito, entriamo proprio in media seressa. È noto che i romani consideravano una delle loro opere principali la costruzione di strade. Tra i tanti autori che ne parlano riporto un passo assai celebre di Strabone dove il geografo di Apamea dice mentre infatti i greci ritenevano di aver raggiunto il loro massimo scopo con la fondazione delle città perché si erano preoccupati dalla loro bellezza, i romani hanno pensato soprattutto a ciò che quelli avevano trascurato a pavimentare vie, a incanalare acque, a costruire fogne che potessero evacuare nel Tevere tutti i rifiuti della città. Selciarono anche le vie che passano attraverso tutto il territorio, provvedendo a tagliare colline e a colmare abballamenti, così i carri potessero accogliere i carichi delle imbarcazioni. E questo in realtà corrisponde a un dato reale. Riporto qui una carta dell'impianto viario romano di età imperiale, un famoso studioso di topografia, Raymond Chevalier, ha calcolato in circa 120.000 chilometri l'estensione di questo sistema viario. Mi preme anche sottolineare che quelli che vedete qui sono gli assi viari principali. A questi dobbiamo aggiungere anche tutta una fitta serie di strade, oggi diremmo regionali, provinciali, comunali, quindi una rete incredibile. Una rete che era sopportata anche da un sistema articolatissimo di riferimento luoghi di sosta e di luoghi di cambio dei cavalli. Qui presento un documento eccezionale che voi sicuramente conoscete, e cioè le tazze di Vicarello. Questa fitta rete di stazioni di sosta e stazioni di cambio dei cavalli è nota da diversi documenti, ne presento qui uno di particolare interesse, che è una delle tazze d'argento trovate a Vicarello, con l'itinerario che andava da Cadice in Spagna fino a Roma. E qui possiamo vedere come, a intervalli abbastanza regolari, fossero presenti questi luoghi di sosta e di cambio dei cavalli. Alcuni di quelli li conosciamo, così per citarvi, non so, Parma, Modena, Bologna, Faenza e via così, fino ad arrivare a Roma. Quindi una rete molto, molto fitta. Come possiamo vedere anche nella tabula pointingeriana, questo manoscritto di età medievale che ricopia una carta topografica di carattere militare, ho scelto la parte del Nord Italia con Aquileia, qui cerchiata, dove vediamo anche qui le stazioni e le distanze in migliaia di passi. Quindi noi penseremo a un sistema ben organizzato, un sistema in cui fosse facile spostarsi e soprattutto fosse sicuro. Questo non corrisponde per nulla alla realtà dei fatti. E comincio proprio con un famoso altare, proveniente, rinvenuto a Roma, in cui un evocato di Augusto, un tito albano principiano, un evocato di Augusto, in questo periodo gli evocati appartengono o provengono dagli equites singulares, cioè della guardia del corpo personale dell'imperatore. Quindi dobbiamo pensare a un uomo avvesto all'uso delle armi, a un uomo anche abbastanza sicuro di sé. Gli evocati avevano alle spalle una lunghissima carriera. Eppure cosa fa questa persona alla vigilia della partenza? Pone questo altare in onore della Casa Divina, in onore al Domus Divine, e in questo altare le due facce laterali sono decorate. La prima, ecco qua voglio soffermarmi in particolare, perché quella che ho cerchiato in rosso, è una delle pochissime raffigurazioni di un miliario. Qua potete venire sul miliario e qua l'indicazione numero uno, cioè il primo miglio da Roma. E in queste due facce lui riporta un'espressione proverbiale romana latina che era salvos ire, salvos venire. Cioè lui prega di poter andare via sano e salvo, ma anche di ritornare sano e salvo. Ora se un personaggio di questa esperienza e anche di queste capacità militari, un uomo sicuro evidentemente di sé, assente il bisogno di porre un ex voto di questo genere, un voto, di formulare un voto di questo genere, questo fa capire come la situazione non fosse così tranquilla. Le fonti letterarie si soffermano spesso su quelli che sono i pericoli del viaggio. Ne riporto qualcuna a titolo di esempio. In un passo della sua storia naturale, Plinio dice che quando si viaggia bisogna stare al sicuro non solo dall'attacco dei serpenti, ma anche da quello delle bestie feroci e dei predoni. Ecco, questo dei latrones è uno dei punti focali di quello che esamineremo oggi. E anche un piano nel digesto, quando elenca una serie di cause per cui durante un viaggio può accadere qualcosa, dice che una delle possibilità è essere uccisi dai predoni, dai briganti, o essere schiacciati dal crollo di una stalla, o anche essere, il verbo qua è molto significativo, obtritus, proprio stritolato, tritato, da un carro, da un veicolo. Quali sono i pericoli? I pericoli erano moltissimi. Si andava dal fatto che spesso le strade erano esposte a frane, a smottamenti, a esondazioni dei fiumi, al fatto che anche i luoghi di sosta non erano particolarmente sicuri o erano quantomeno di malaffare. Mostro qui un'iscrizione abbastanza nota, ritrovata a Iserni, oggi conservata al Museo del Louvre di Parigi, è uno di quei tanti monumenti che Napoleone fece trasportare dall'Italia in Francia e che poi non è più tornato. In questo altare funerario è raffigurata una scena di viaggio. Abbiamo il viaggiatore col cucullus, questo mantello da viaggio con cappuccio, che poteva essere in cuoio o in lana infeltrita, un po' simile al nostro Loden. Il suo mulo, ricordo che i viaggi avvenivano quasi essenzialmente a piedi e con il carico affidato a un mulo a un cavallo o a un carro. E qui un'oste. E se noi leggiamo questa iscrizione, che è ambigua per molti versi, allora si ricorda che un lucio calidio erotico ha fatto il monumento funerario per sé e per la moglie Fania Voluptas. Già questo un po' appare ambiguo. L'uomo si chiama erotico, la moglie si chiama piacere e poi sotto il testo ricorda una scena forse ispirata a un mimo, a una rappresentazione teatrale. Allora il viandante si rivolge all'oste e gli dice Oste facciamo il conto e l'oste risponde hai un sestario di vino per un asse, poi hai un asse di pane, hai due assi di companatico, di carne, di cibo e il viandante dice Convenit va bene e poi per dirvi come si trattava di locali di malaffare l'oste gli dice Poi hai avuto la compagnia di una fanciulla otto assi e lui dice anche questo va bene e poi l'oste aggiunge è il fieno per il mulo due assi e qui il viaggiatore che non ha esitato a spendere ben otto assi per la compagnia femminile dice questo mulo mi porterà alla rovina. Ecco ma questa era una cosa che doveva ripetersi spesso se qualcuno di loro ricorda la satira di Orazio quella del viaggio da Roma a Brindisi si ricorderà che anche lo stesso Orazio incappi in un'avventura erotica finita male quindi ambienti non particolarmente affidabili le fonti letterari raccontano anche di viaggiatori uccisi mentre dormivano in una locanda e fatti sparire ma il problema principale quello su cui ci soffermeremo in particolare oggi è quello rappresentato dai briganti i briganti hanno un potremmo dire un trattamento ambiguo nelle fonti a volte sono considerati esseri spietati ma a volte sono anche mitizzati uno degli autori che si dilunga di più sui briganti e sulle loro vicende è Apuleio nell'asino d'oro o metamorfosi e per renderci conto di quale fosse il pericolo collegiamo insieme questo passo a un certo punto il protagonista vuole scappare durante la notte dalla casa in cui si trova e dalla scusate dalla locanda in cui si trova e incontra il portinaio il portinaio che era disteso giusto dietro l'uscio della locanda mezzo addormentato mi fece ma come vuoi metterti in cammino a quest'ora di notte non sai che le strade sono impestate dai briganti se hai scelto di morire perché hai la coscienza sporca io non sono mica tanto stupido da fare la stessa fine per causa tua già da questa fonte percepiamo come il pericolo fosse fosse reale sentito come reale chi sono i latrones a volte chiamati anche grassators cioè i briganti di strada ma Apuleio ha una visione che oggi diremmo una visione di carattere sociale antropologica lui dice che sono persone che la necessità creata dalla povertà ha spinto verso questa setta verso questa ad imboccare questa strada a unirsi a una banda da quello che vediamo nelle fonti si tratta o di individui isolati o di piccoli gruppi o talora anche di bande anche bande molto grosse molto organizzate sempre Apuleio che parla di una di queste bande ci dice che avevano spie nelle città spie dentro le locande che quindi segnalavano i viaggiatori più facoltosi ai loro compagni perché preparassero una guata chi sono? sono per lo più schiavi fuggitivi che si danno alla macchia individui spinti da difficoltà materiali o dalla disperazione contadini, pastori, cittadini che magari non erano in grado di pagare le tasse o si trovavano ingolfati di debiti è quello che le fonti che gli autori moderni chiamano banditismo sociale emarginati per vari motivi ribelli e rivoltosi soprattutto negli anni 70 e 80 dello scorso secolo un filone della storiografia visto nei briganti una forma, nel brigantaggio una forma di rivolta contro lo Stato romano e poi molti soldati o ex soldati vi riporto un passo famoso di questo libro uno dei pochi dedicati alla criminalità nel mondo antico questo di Krause in cui c'è un'interpretazione abbastanza opinabile lui sostiene anche se nella letteratura di età imperiale i predoni hanno grande importanza ovviamente ciò non significa che stessero in agguato in ogni strada provinciale l'intensità della paura di essere vittima di un reato non corrisponde sempre alla frequenza di determinati crimini e poco più oltre dice i pericoli provocati dai briganti erano dunque veri ma non dovrebbero essere drammatizzati ecco questo è un esempio tipico di come affrontare un problema del mondo antico solo sulla base delle fonti letterarie conduca poi a interpretazioni se non errate quantomeno distorte e lo vedremo proprio nel corso dei documenti che insieme affronteremo adesso allora cominciamo per esempio con qualche caso famoso ad esempio Cicerone in una lettera all'amico Attico dice io vedo che una sola lettera non mi è stata restituita da te una lettera che Lucio Quinzio un mio carissimo amico mentre la portava lui venne scusate non ha coluto ma del testo latino voglio tenermi alla lettera lui venne ferito e spogliato presso il sepolcro di Basilio ora il sepolcro di Basilio è presso a poco all'altezza della tomba di Cecilia Metella sulla via Appia quindi siamo a poche miglia dalla città e qui non si tratta di una persona che viaggiava da sola di solito personaggi di una certa importanza viaggiano accompagnati dagli schiavi dai liberti e quindi vedete che va bene uno potrebbe dire un caso isolato ma ne vedremo altri e uno famoso è questo dell'amico di Plinio il Giovane Plinio il Giovane in una lettera al suo amico ispano dice tu mi scrivi che robusto un splendido cavaliere romano mentre camminava mentre faceva un viaggio in comune con il mio amico Attilio Scauro arrivato all'altezza di Ocricoli non è più apparso è sparito nel nulla Ocricoli è vicino a Terni eccolo qui è lungo la via Flaminia su una strada ampia ecco qui il tratto della via famiglia Flaminia proprio ad Ocricoli strada selciata glareata con marciapiedi quindi non come potremmo pensare un viottolo di campagna o di montagna ecco e come continua poi la narrazione lui dice mi chiedi di far venire Scauro e di fare qualche indagine per vedere se lo troviamo lui verrà ma temo in vano io infatti sospetto che gli sia accaduto qualcosa di simile che ha robusto al nostro amico sia accaduto qualcosa di simile che accade un tempo al mio compaesano Metilio Crispo Metilio Crispo era di Como come Plinio il Giovane lui dice che aveva si era adoperato presso il consiglio cittadino per fargli avere una raccomandazione e quando lui stava per recarsi a Roma gli aveva dato 40.000 a Sesterzi per prepararsi per il viaggio e per l'arrivo e anche per assumere un abbigliamento e uno stile di vita adatto a chi doveva presentarsi a Roma per intraprendere la carriera ma dice ma poi io non ho più ricevuto da lui né lettere né nessuna notizia non so se sia stato ucciso dai suoi o con i suoi questa è una frase molto interessante perché raramente si viaggiava da solo da soli ma a volte il pericolo era rappresentato proprio dai compagni di viaggio il dubbio che si pone Plinio è questo è stato è caduto in qualche agguato lui insieme agli schiavi o a quelli che lo accompagnavano oppure sono stati costoro a ucciderlo a prendere i 40.000 a Sesterzi che sono una somma veramente rispettabile il dubbio rimane certamente sia lui stesso sia nessuno dei suoi servi è più apparso proprio come è accaduto a Robusto ecco questa era una cosa abbastanza comune quella di sparire nel nulla partire e non arrivare mai più qual è l'imprudenza qui quella di essere partiti con una somma ragguardevole e probabilmente qualcuno io sono più concorde che sia stato ucciso dai suoi a meno che non vogliamo pensare come dicevo prima a un servizio da parte dei briganti di spionaggio di informazione certo che la somma è veramente alta vediamo altri casi interessanti uno molto famoso è questo di un oggi diremo un un ingegnere del genio che viene chiamato per fare dei lavori di ristrutturazione dell'acquedotto della città di Sades in Africa questa è la statua questo è l'iscrizione è questa oggi è conservata nella città di Lambesis con questa specie di altarino a fontana è un'iscrizione molto bella molto famosa ecco il personaggio era partito da Lambesis per recarsi a Saldai un viaggio non molto lungo e neanche particolarmente impervio la strada è una strada lastricata una buona strada ben frequentata in questo monumento che ha più facce il personaggio racconta la sua vicenda tant'è vero che una studiosa la Cuomo nel Journal of Roman Studies che voi potete scaricare liberamente da internet ha raccontato la sua vicenda con questo titolo accattivante il racconto di un ingegnere romano perché cosa è accaduto a questo personaggio ecco vediamo l'iscrizione il monumento a tre facce ognuno dedicato a una virtus quella centrale che ci interessa è dedicata alla sopportazione la patientia allora la città la splendidissima città di Saldes e lo stesso personaggio aveva pregato il governatore di mandare il veterano noniodato che era un veterano della terza legione augusta una delle dei corpi d'elite dell'Africa romana che aveva un grandissimo accampamento proprio a Lambesis affinché si recasse a Saldas lui era un liberatore cioè era un proprio un vero ingegnere che aveva la capacità di calcolare i livelli dell'acquedotto come voi sapete l'acquedotto ha una pendenza leggerissima e costante deve avere una pendenza leggerissima e costante e il calcolo è estremamente complicato il suo compito era quello di portare a termine il lavoro dell'acquedotto che era stato in parte abbandonato forse per qualche difficoltà durante la costruzione adesso l'iscrizione cambia soggetto il personaggio e cioè nonio dato parla in prima persona e dice sono partito e intervias latrones sum passus e durante il viaggio ho subito l'assalto dei predoni dei briganti nudo ferito sono riuscito a stento a scappare con i miei sono andato a Saldas e poi l'iscrizione continua dicendo che è stato accolto dalla popolazione e poi nel resto di questa lunghissima iscrizione viene raccontato come si ripara l'acquedotto e con una con una sorta di storytelling molto molto interessante ma ricordo è un veterano è un uomo avvezza l'uso delle armi si muove con il suo staff eppure nudus saucius evasi con i miei lui è quasi contento di essersela cavata scappando nudo i briganti toglievano sempre completamente vestiti alle loro vittime e ferito questo è il viaggio questo è il percorso veramente stato assalito in questo punto centrale di una strada che ripeto è una strada frequentata non è un percorso secondario ecco scusate è stata una ripetizione vi dicevo non solo i briganti a volte il pericolo era di essere ucciso dai compagni di viaggio una iscrizione che proviene da Salona in Dalmazia una località vicina a Spalato ricorda un personaggio di nome Euplus che probabilmente è stato ucciso di solito i monumenti a questi personaggi uccisi dai briganti vengono posti nei pressi delle località dove sono stati uccisi di 25 anni che fu ucciso dai compagni di viaggio questo era un caso abbastanza frequente spesso questi compagni di viaggio si univano ai viandanti con qualche scusa magari partendo da un luogo di sosta e quindi durante il viaggio poi li attiravano un inganno addirittura li uccidevano chi è che viaggia adesso vedremo qualche caso un episodio molto noto e che colpisce è quello di un giovane fanciullo che si chiama Quinto Lusio Senica che non era ancora sviluppato il testo latino dice la sua giuventù era morbida non era ancora formata con le forze lui parte perché voleva andare a trovare la sorella che non vedeva da molto tempo ed era e per questo si era prefisso di compiere un viaggio di molte miglia ma mentre vuole compiere questo viaggio viene ucciso da un improvviso assalto di predoni e questa viene a Cartago Novo oggi Cartagena se la guardiamo anche qui è una cosa su cui mi preme richiamare la vostra attenzione a differenza di quello che dice quell'autore che abbiamo citato in precedenza qua non si tratta di cose sporadiche e neanche che avvengono i luoghi imperdi questa è la rete stradale della Spagna lui probabilmente si era mosso forse dalla Betica dalla parte meridionale forse voleva recarsi in una delle grandi città come Sagunto Tarragona o Barcellona Barchino e muore a Cartagena Cartago Nova che è una grande città muore nei pressi di questa città possiamo capire forse meglio l'avvenimento accaduto invece a questo personaggio di cui non conosciamo il nome forse originario della Campania di nome Ispano che resedeva anche lui a Cartago a Cartagena e che viaggia insieme a un compagno che si chiama Silvano e loro dicono di essere stati uccisi entrambi dai predoni qui il luogo è questo Lugdunum con Wenarum che è al punto di sbocco dei Pirenei oggi si chiama San Bertrand del Comige ecco qui loro sono partiti presumente loro due Ispano e Silvano da Cartago Nova avranno seguito probabilmente la strada fino a Sagunto poi saranno risaliti verso Cesare Augusta cioè Saragozza da qui a Osca Uesca e poi vanno attraversati i Pirenei per incontrare il loro destino qui in questo punto all'Ogdunum con Wenarum che è la prima località della Quitania al di là dei Pirenei a volte c'è anche ricordato il fatto che la vittima è stata tirata con l'inganno un'iscrizione rinvenuta a Rechena in Spagna ricorda questo Junius Sosinaibole a un nome celtico a un nome indigeno proveniva dalla città di Gilis viene localizzata nel centro della Spagna ma è una città di incerta collocazione e muore a Rechena e lui nella tomba posta dal figlio e dai genitori si ricorda che lui è stato ucciso dolo latronum manu per mano dei predoni ma con l'inganno uno degli espedienti che conosciamo anche da qualche fonte letteraria è che qualcuno qualche brigante fingeva di essere una guida di conoscere qualche percorso secondario più rapido e in questa maniera attirava il malcapitato fuori dal percorso più frequentato e qui poi dalla stessa falsa guida o dai suoi compari veniva ucciso ecco Rechena è qui vi ho detto Gilis è stata collocata in questa zona ma non si è sicuri probabilmente lui stava recandosi verso la costa o verso Valencia o verso Saguntume da qui lungo la strada principale a volte le iscrizioni ci ricordano anche che la morte spesso è atroce in questa iscrizione che viene da Clina vicino a Costolac nella Mesia viene ricordato questo personaggio che viene ha subito un'atrocissima morte da parte dei briganti ecco qui però possiamo capirlo la zona è una zona impervia però quello che mi vorrei sottolineare è che il brigantaggio non è come si potrebbe pensare un problema confinato in zone periferiche in zone impervie in zone poco frequentate sì anche in queste zone ma come abbiamo visto prima nei dintorni di Roma nel centro dell'Italia nel pieno della penisola iberica e quindi è un fenomeno frequente diffuso non così raro come qualche studioso pensa al fatto che spesso i viandanti vengono tratti in inganno si ricorda questo fatto viene ricordato dal verbo latino di cipio con questo per esempio da Madauro in Africa Proconsolare è la città natale di Apuleio tra l'altro e l'iscrizione sacra agli dei mani ricordo un gaio Sutorio Marzialis persona pia affettuosa che visse 25 anni e che viene sepolto qui insieme a forse al suo compagno di viaggio Gaio Pinneio Crescens anche lui 25enne i quali entrambi sono stati tratti in inganno e uccisi poi dai predoni un esempio molto singolare poi ci torneremo quando parleremo delle vittime dei predoni è in questa iscrizione sempre da Salona in Dalmazio l'iscrizione è posta dal fratello e dalla moglie a Massimiano che era soprannominato anche Aureus d'oro che di mestiere faceva il Sector il Sector è un gladiatore e anche il gladiatore di una specialità piuttosto qualificata adesso lo vedremo di anni 22 aveva già vinto cinque scontri anche lui tratto in inganno e ucciso dai predoni il Sector è un gladiatore eccolo qui è un gladiatore armato pesantemente molto abituato alla lotta dal corpo a corpo che di solito veniva opposto al Reziario e sappiamo che nello scontro con il Reziario la difficoltà era proprio quella di avvicinare il Reziario senza farsi catturare dalla rete e colpirlo ucciderlo nel corpo ferirlo nel corpo a corpo quindi un uomo avvezzo all'uso delle armi eppure anche lui cade vittima dei briganti un caso singolare viene da questa iscrizione rinvenuta nei pressi di Roma in cui abbiamo un probabilmente un giovane maestro di scuola questo un pedagogo questo Giulio Giulio Timoteo che visse più o meno 28 anni dalla vita rispettabilissima pura che fu tratto in inganno tratto in una guata e ucciso dai ladroni insieme a sette alunni all'unno su cui può avere l'alunno può avere vari significati in latino alunno può essere l'alunno vero e proprio può essere anche l'apprendista comunque si tratta sempre di fanciulli e qui lo vediamo sette più lui attratti in questo inganno e massacrati in alcuni casi si poteva essere rapiti dai rapiti dai briganti i quali è il caso famoso anche della fanciulla di cui narra Apuleo nell'asino d'oro nelle metamorfosi la fanciulla che viene rapita da casa sua figlia di un ricco benestante di un ricco proprietario terriero viene rapita per chiedere il riscatto la vicenda è collegata poi alla alla narrazione della favola di amore psiche ecco in questo caso abducto portato via rapito dai predoni però da quello che vediamo non è più tornato probabilmente i predoni i briganti sono fatti anche consegnare il riscatto però il nostro personaggio non è più ritornato a casa come vediamo dall'iscrizione perché è posto a questo Gaio Tadio Severo rapito dai briganti di anni 35 e qui viene ricordato anche il figlio che il monumento è posto dal figlio con questa frase che è un po' un topos letterario ma sempre colpisce sempre il figlio avrebbe dovuto porre questa iscrizione alla madre e al padre e invece è accaduto il contrario altri casi di persone che non ci aspettano mai venissero attaccate dai briganti questa è di un'iscrizione di Treveri oggi Trier allora è la Gallia Belgica ecco in questa zona una zona fittamente popolata lungo una strada che faceva da collegamento tra le due Germania e la Gallia Belgica è interessante perché l'iscrizione ricorda con un testo in metrica molto bello in cui si parla di questo personaggio ve la leggo perché è interessante chi soffre per la scomparsa per la morte di una persona ha il suo animo consolato dall'affetto la morte può togliere la vita ma dopo che sono ma la fama che riesce a sopravvivere anche al fatto acquista vigore il corpo perisce ma il nome rimane sulla bocca di tutti questo personaggio vive viene lodato l'iscrizione viene letta celebrato lui viene celebrato e amato ma il personaggio è interessante perché è un nuncius augusti un velox pede curso qui si tratta di un messaggero dell'imperatore che era conosciuto o caratterizzato dal fatto di essere un corridore particolarmente veloce il fatto di essere un messo imperiale non l'ha salvato dalla dalla morte una morte che viene detta vedete o crudele nefas o delitto crudele o fatto crudele costui e sopportò la morte subì la morte senza aver nessuna colpa damnatus perit deceptus fraude la trono è morto tratto in inganno dal frode dal dolo dei briganti pensate se poteva capitare questo un messo imperiale che evidentemente viaggiava anche con delle credenziali voi capite che nessuno era riparo dai dall'attacco dall'insidia dei predoni quindi non un fenomeno sporadico come sembra dire Krauss ma un fenomeno veramente endemico estremamente diffuso altri personaggi illustri per esempio da una cittadina della Dacia da un luogo della Dacia mascliane vicino a Dobreta eccolo qui nella moderna Romania addirittura un personaggio che si chiamava Publio Elio Ariorto che era Quattuorviro del municipio di Drobeta il Quattuorviro è il membro appartenente al collegio di quattro persone che governa un municipio lui annuale per cui dovrebbe essere iure di condo quindi lui l'equivalente del sindaco e viene anche lui ucciso dai predoni probabilmente durante un viaggio non credo che un personaggio d'elitto un personaggio di riguardo come un Quattuorviro come il sindaco di un municipio viaggiasse solo ma lo stesso capita sempre evidentemente il municipio di Drobeta era perseguitato da queste vicende a un altro a un Lucio Giulio Basso che era Decurione il Decurione è l'appartenente al oggi per usare un termine moderno al consiglio comunale del municipio ma non solo era anche questore cioè oggi diremo assessore le finanze anche lui ucciso dai briganti sempre in questa zona la cosa che più interessa è che l'iscrizione ricorda un fatto singolare e cioè che il fratello Giulio Valeriano morte meius executus ha vendicato la morte del fratello questo ci dice alcune cose la prima che contro il brigantaggio poco poteva l'organizzazione romana e che spesso la vendetta avveniva con quella che uno storico famoso ha chiamato la giustizia fai da te cioè erano a volte le vittime o i parenti delle vittime a vendicare la morte dei loro dei loro congiunti uccisi ne abbiamo un altro caso molto bello questo mi piace di una donna ulcudia che è stata uccisa dai predoni sempre adrobeta a dimenticavo drobetta corrisponde all'odierna turnus severini ma è stata anche vendicata quindi evidentemente i genitori o il fratello hanno dato la caccia ai banditi e li hanno uccisi il medico il medico Galeno Galeno nel suo trattato sull'anatomia ricorda un episodio che lo aveva colpito da giovane e cioè il fatto di aver visto i corpi di alcuni briganti che erano stati uccisi dai parenti delle vittime e poi i corpi erano stati abbandonati lungo la strada per essere divorati dagli animali e dai corvi e lui dice che aveva potuto così avvicinarsi allo studio dello scheletro umano veniamo ad Aquileia che anche Aquileia non è esente da episodi di questo genere nostra cara Aquileia nel museo di Aquileia è conservata un'iscrizione che ricorda un militare della legione quattore tredicesima gemina che si chiamava Antonio Valentino che era stato ucciso dai predoni sulle Alpi Giulie e addirittura c'è il particolare nel luogo che viene chiamato probabilmente l'Oca Scellerata c'è probabilmente alcuni di questi posti come questo collocato sulle Alpi Giulie oggi le Alpi Giulie erano talmente famosi per i pericoli che comportavano il loro attraversamento da avere nomi di questo genere ma questa è una cosa che rimane anche ai nostri toponimi pensiamo a luoghi tipo Malborghetto o cose delle vicinanze di Roma per esempio la località è stata collocata qui spero di pronunciare bene il nome Aydussina è una delle proposte e poi è uno dei punti di valico delle Alpi Giulie verso la pianura e forse non è un caso che proprio ad Aquileia siano attestati in gran numero i beneficiari rimando qui a questo studio di Maurizio di Maurizio Buora comunicato su Aquileia nostra in cui sono raccolte le testimonianze sia iconografiche sia epigrafiche relative ai beneficiari qua ne abbiamo uno purtroppo è mutilo della testa però stringe in mano forse una borsa e forse la vitis il bastone che contraddistingueva ad esempio i centurioni però Maurizio mi correggerà se sbaglio i beneficiari sono dei soldati che vengono spesso collocati in posti lungo le strade per presidiare per assicurare la sicurezza dei viandanti e che da alcune fonti letterarie sappiamo che spesso loro erano in combutta con i briganti stessi per cui non assicuravano tutta quella tutela che forse ci sarebbe che forse il viandante si aspettava come ci si poteva difendere ma andando con una scorta però abbiamo visto il caso dell'amico di Plinio Robusto che è stato forse ucciso dalla sua stessa scorta un caso interessante narrato sempre da Plinio il Vecchio in un capitolo che lui dedica ai cani e alla fedeltà dei cani è quello in cui ricorda che un suo contemporaneo il nobile Vulcazio un professore di diritto il quale aveva addirittura insegnato il diritto civile a Casceglio che è un altro famoso giusperito mentre tornava a cavallo a Sturcone bellissimo questo termine arcaico mentre tornava da cavallo verso la città dalla periferia dal suburbio mentre si faceva a sera il suo cane lo difese da un predone da un brigante ecco quindi probabilmente mentre andava a cavallo si faceva accompagnare da un cane di grossa di grossa taglia iniziative contro il brigantaggio sono piuttosto sporadiche almeno da quello che abbiamo a disposizione dalle fonti una testimonianza molto interessante viene da Aqualania nella provincia di Pesaro Urbino lungo la via Flaminia nei pressi della Galleria del Furlo su una delle facciate della Galleria del Furlo venne trovata questa grande lastra che ricordava un episodio particolare ecco questa è la Galleria del Furlo quindi una località impervia si deve passare per una strada molto stretta e quindi un luogo ideale per gli agguati da parte dei briganti qui un evocatus proveniente probabilmente dai pretoriani che si chiamava Aurelio Munazianus con la sesta corte pretoria filippiana qui il nome della corte che richiamava l'imperatore Filippo l'arabo che aveva avuto la dannazio memorie è stato cancellato quindi lui apparteneva alla sesta corte pretoria lui era un evocato un richiamato che proveniva dalla sesta corte pretoria ha il compito agens è incaricato att la trunculum quindi qui abbiamo un caso in cui un potremmo dire un uomo richiamato in servizio dalla corte pretoriana viene dato l'incarico di reprimere il brigantaggio con 20 soldati con militibus numero viginti con 20 della classis pretoria Ravennatis della flotta pretoria di Ravenna quindi viene inviato un presidio probabilmente da Ravenna stessa di solo 20 uomini anche se in questo caso si tratta degli uomini dei soldati qui detto esplicitamente milites che erano imbarcati sulle navi da guerra romani dovremmo pensare a un equivalente dei marins o dei fanti da mare con questi 20 lui con l'incarico di agens cioè vuol dire che lui ha pieni poteri viene incaricato dire prima il brigantaggio in questa in questa zona ma è uno dei pochi casi che abbiamo di questa iniziative da parte dello Stato centrale tant'è vero che alcuni studiosi pensano che il brigantaggio fosse combattuto più dalle comunità locali che non dallo Stato alcuni addirittura pensano che ci fosse una sorta di tolleranza perché il brigantaggio poteva costituire una sorta di sfogo delle tensioni sociali chi sono le vittime a mio avvio concludere perché prima si diceva ricordate quel passo con cui avevo aperto in cui si parlava di una cosa di poca importanza che non era una cosa da drammatizzare ma se guardiamo le vittime noi abbiamo un cavaliere romano cioè un appartenente a uno dei due ordini principali della della società romana un sindaco di Dobreta un consigliere comunale sempre di Dobreta ma soprattutto un questor c'è un tesoriere un uomo importante poi abbiamo un professore di diritto civile un pedagogo sempre che sia un pedagogo il giovane ucciso insieme agli otto alunni un centurione un princeps un veterano due soldati semplici un gladiatore e poi un amico di Cicerone quindi un uomo anche questo appartenente all'elite un messaggero imperiale quindi non abbiamo solo poveri anche poveri sventurati ma abbiamo anche persone di rango per quanto riguarda le vittime in base alle fonti epigrafiche abbiamo 32 uomini tre donne ma il dato che stupisce sono i dieci bambini e se guardiamo anche l'età se voi guardate questo grafico torta vedete che la maggior parte va dagli anni 1 fino agli anni 30 quindi anche questo accanimento contro vittime giovani e adesso una domanda che pongo anche voi alla luce di tutto quello che abbiamo visto allora quello del brigantaggio è una creazione mitica o è realtà e poi la seconda domanda è questa da porsi sono dei briganti da avvicinare al mito di Robin Hood persone che si oppongono al sistema che schiaccia che rubano i ricchi per dare ai poveri o sono dei tagliagole dei volgari tagliagole la mitizzazione io non credo che bisogna mitizzare qua siamo di fronte a criminali a individui spietati che non si fanno nessuno scrupolo di ammazzare donne e bambini anche piccoli che raramente lasciano in vita le loro vittime anche con una crueltà non necessaria una volta che il malcapitato era stato depredato e spogliato completamente di tutto non era certo necessario ucciderlo a meno che non si volesse cancellare le tracce del delito il mito a cosa è collegato è quel fascino che un po' ritorna poi nella letteratura romantica dell'ottocento come quella che ha generato Robin Hood in quella anche di certa letteratura che è ambientata nell'ottocento italiano ma vi leggo un passo e questo è il passo da cui eravamo partiti quello che diceva che non dovrebbe essere drammatizzato ma non credo che sia proprio questo ecco ma dicevo questa mitizzazione ma la vediamo anche in questo passo delle metamorfosi avevano appena preso posto che altri ne arrivarono briganti nella loro tana nel loro covo molto più numerosi e non mi ci volle granchia capire che anche questi erano dei briganti della stessa risma anch'essi infatti se ne vennero con il loro bottino monete d'oro e d'argento vasi preziosi stoffe di sete e broccati vedete che traspare un po' di ammirazione da parte del di Lucio che trasformato in asino assiste a tutto questo anch'essi si ritemprarono con un bagno caldo poi sedettero a mensa fra i compagni alcuni estratti a sorte cominciarono a servirli mangiarono e bevero a più non posso divorarono montagne di carne in un mondo in cui si soffriva la fame voi capite che questo fu proprio parte della mitizzazione intere infornate di pane uno dietro l'altro traccannarono file di bicchieri per vedere ad esempio il film di Errol Flynn con frate Tuck che beve decine di dipinte di birra fecero un baccano d'inferno cantarono a scorciagola si scambiarono lazzi ingiuliosi sembravano tanti lapiti e centauri ubriachi a metà bestie e metà uomini ecco però io non credo che questo sia il quadro che noi dobbiamo farci ma da quello che possiamo vedere il brigantaggio era estremamente diffuso presente in tutto il mondo romano sia nelle aree più fortemente romanizzate sia nelle aree minori un fenomeno che Roma o non è in grado di contrastare o non vuole contrastare oppure affida il contrasto alle comunità locali che probabilmente o non sono in grado di combatterlo pienamente o viene il dubbio spesso erano colluse e quindi io credo che la visione mitica non dobbiamo averla qua siamo di fronte a veri e propri criminali ecco chiudo con tanto so che questo poi vi rimane chiudo con una bibliografia essenziale uno dei lavori principali e questo in lingua inglese banditi in impero romano mito e realtà e poi anche molto interessante questo dedicato a letteratura e folclore proprio ai briganti perché si analizza questo mito dei briganti nel mondo romano e poi beh naturalmente adesso mi aspetto le vostre domande ma se qualcuno volesse poi pormi dei quesiti o volesse della documentazione ulteriore o degli articoli mi scriva pure a questo indirizzo e naturalmente risponderò prontamente grazie grazie molte molto molto interessante veramente una bella raccolta di fondi di fonti scusa e anche interessantissimo bene ottimo ecco se qualcuno ha delle domande sono qui il mio professore che era anche professore di Maurizio Buora diceva sempre o tutto chiaro o tutto scuro tutto scuro mi lasciate con questo dubbio te lo ricordi Sartori no? eh me lo ricordo sì ce ne aveva sempre tutto chiaro tutto scuro vabbè quando nessuno domandava è che si tratta di un campo molto specialistico quindi le persone non sono addentro nella tematica certamente è un'area marginale ecco no ma mi chiedo sempre se loro pensasse se voi pensavate anche io quando ho cominciato questa ricerca non è sicuro che viaggiare fosse davvero così pericoloso no? noi ci facciamo sempre l'idea di un mondo quasi idillico no? e invece in realtà non lo era cioè davvero si faceva testamento prima di partire come nel Medioevo e quindi questo mi piace vedere sempre l'aspetto un po' nero del mondo romano ecco non solo così questa visione un po' edulcorata no? Niente nessuno ha il coraggio di infatti delle obiezioni o delle domande va bene va bene bene allora vi saluto vi ringrazio ti ringraziamo ancora una volta e speriamo di vederci presto grazie speriamo veramente arrivederci a tutti ciao salve grazie ciao Maurizio grazie a tutti grazie a tutti